Chiusura dei locali alle 18 per fronteggiare la diffusione del coronavirus e c'è chi scende strada per far sì che questi locali chiudano. È successo a Caggiano dove il sindaco Modesto la mattina è sceso fisicamente tra le strade del suo paese per chiedere ai clienti e alle persone che ancora passeggiavano tra le vie del paese, senza motivi necessari, di tornare nelle loro case per rispettare quanto deciso dal governo in questa fase delicata. Inoltre il primo cittadino è andato nei locali che tardavano a chiudere imponendo la chiusura delle serrate alle 18. Lo farà, ha riferito il primo cittadino, anche nei prossimi giorni perché l'emergenza, secondo la mattina, che ricordiamo è anche esperto di protezione civile, è forte e va fronteggiata nel miglior modo possibile, quindi rispettando tutte le direttive imposte dal governo, come quella soprattutto di restare a casa, e rispettare quindi anche gli orari di chiusura. Il sindaco inoltre, secondo quanto riferito, ha anche dato la caccia, fisicamente e non solo, a tutti quei cittadini che sono tornati dal nord e non hanno segnalato la loro presenza nel territorio. Questo, sempre secondo quanto detto dal sindaco, per evitare che il coronavirus si diffonda sempre di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.